Allora, intervista Luciano Leuzzi, unico coraggioso del gruppo a fare il percorso lungo. Luciano, dici come è andata e esprime le tue sensazioni del dopo corsa. Come non lo so? Hai avuto delle buone sensazioni? Mi sono andato bene, invece ho visto la macchina di fine corsa dietro. Beh però è già stata una gran cosa fare il percorso lungo. Certo, la condizione non è ancora abbastanza dura, mi sono venuti crampi alla fine, naturalmente dato l'allenamento esiguo rispetto all'altro, va bene così. Comunque la condizione sta crescendo ci sembra dalle ultime performance. Beh certo, la berbera corta, questa lunga, adesso vediamo la prossima. I tuoi obiettivi per la stagione Luciano? A parte riconfermarti il migliore della squadra nel percorso lungo? Il gran fondista dell'anno. Il gran fondista dell'anno? Mandare poco e pedalare tanto, questo è il mio motto. Va bene, ringraziamo Luciano Leuzzi detto il cannibale per la sua cortesia dopo 140 km di corso. Un saluto al sito Luciano, un saluto. Grazie a persona in più, saluti a tutti. Ok, ciao. Ciao. Stai bene. Ciao. Grazie.